Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Tommaso Trussardi ha recentemente pubblicato questa foto e men che non si dica ha subito raggiunto un grandissimo numero di like sui social. Avete capito di chi si tratta? Sono mesi davvero intensi per Tommaso Trussardi, costantemente protagonista dei media a seguito della separazione da Michelle Hunziker, dopo ben dieci lunghi anni di matrimonio Recentemente, però, a catturare l'attenzione dei media su Tommaso Trussardi è stato uno scatto condiviso su social e che ritrae l'ex marito della showgirl svizzera in dolcissima compagnia, una donna dalla bellezza stravolgente che ha subito monopolizzato anche i social Foto boom di like per Tommaso Trussardi.Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come Tommaso Trussardi sia stato uno dei personaggi più discussi della cronica rosa, complice anche la festa di compleanno arrivata durante un party benefico, giorno importante durante il quale sono mancati gli auguri dell'ex moglie Michelle Hunziker Anche se a lasciare senza parole è stato lo scatto che ritraeva Trussardi con al suo fianco Mari Capellegrinelli, a sua volta ex moglie di Eros Ramazzotti Oggi, non a caso, nel mirino dell'attenzione del web troviamo anche un'altra foto che ritrae Trussardi al fianco di una donna molto speciale per lui, immagine diventata subito virale sui social Chi è la donna in foto? Questa, dunque, è una delle domande che maggiormente i fan di Tommaso Trussardi si sono posti non appena la foto è stata pubblicata sui social, innescando così la curiosità sulla donna misteriosa Al fianco di Tommaso Trussardi, dunque, è possibile vedere la sorella Gaia, che anni fa ha deciso di mettersi in gioco nel mondo della musica a Londra, passione per la quale ha anche deciso di lasciare il noto brand di moda Gaia Trussardi, inoltre, in passato è anche balzata all'attenzione dei media grazie alla sua bellissima storia d'amore con Adriano Giannini, conosciuto nel 2017 e insieme al quale è convolata a Nozze in gran segreto Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video